buongiorno a tutti allora pensi di giocare alla lotteria green card per andare dagli stati uniti allora si ha un problema con il caricamento della sua fotografia per la lotteria green card sotto il mio video ci sono due link un al sito ufficiale dalle stati uniti per giocare gratuitamente alla lotteria è il secondo link per pagina ufficiale anche per impostare la sua fotografia allora giochiamo insieme e magari un'altra volta ci vedremo in the united states of america grazie mille per vostra attenzione e alla prossima volta magari